Allora, non dirmi che è il tuo orgoglio impedirti di mangiare quel fagiolo Anch'io sto esaurendo la mia energia, quindi se riesci a rimetterti in sesto Potresti avere una piccola possibilità di sconfiggermi Ti sto offrendo su un piatto d'argento una seconda occasione Vorrei divertirmi un altro po' Questa è stata la partita più entusiasmante che abbia mai giocato Hai vinto tu, io mi arrendo Sel Finalmente ho capito quanto sei forte Ed era questo che mi interessava sapere Getto la spugna A quanto pare Goku ha perso la partita Che ne sarà ora del pianeta e di tutti gli esseri umani che vi abitano? Grazie a tutti Grazie a tutti